Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video un video che attendete sempre con molto piacere perché è il video dedicato ai profumi preferiti del periodo ed è il video che faccio come sempre, ormai da un po' di tempo a questa parte in collaborazione con la mia dolcissima amica selvaggia che ringrazio particolarmente in questa occasione perché avremmo dovuto pubblicare questo video qualche giorno fa ma per problemi miei personali abbiamo rimandato quindi la ringrazio sempre anche per la disponibilità quindi oggi eccoci qui a parlare dei nostri profumi preferiti e io vi ricordo sempre che giù nell'info box vi lascio il link per andare a vedere il video di selvaggia il link diretto al suo canale così potete iscrivervi se non lo avete ancora fatto e vi scrivo anche i nomi dei profumi che vi vado a citare e quindi partiamo subito il primo profumo di cui vi parlo è il profumo dell'estetista cinica creato in collaborazione con il naso Paola Bottai ed è appunto May che ha questo packaging davvero molto molto carino e anche un po' retro perché in realtà è proprio il concetto di questo profumo che ha un aspetto anche un po' retro, un po' vintage la boccetta è molto molto carina, semplice con questo colore proprio rosato, delicato della profumazione beh l'estetista cinica insomma penso che la conosciate in tanti ha creato insomma tutta una serie di prodotti per la cura del corpo per la cura del proprio viso nonché appunto una linea di profumi questo è un profumo che si può acquistare online sul sito Veralab che è appunto il sito dell'estetista cinica però credo che lei abbia fatto forse creato dei temporary shop adesso io non sono proprio informata su questa cosa qui però credo che ci siano dei negozi ma in pochissime pochissime città italiane in cui è possibile acquistarlo fisicamente io in realtà quando l'ho acquistato l'ho acquistato un po' a scatola chiusa perché non ho avuto modo alcuno insomma di annusarlo prima però non so perché dalla descrizione che ne era stata fatta io di questo profumo così me ne sono innamorata semplicemente col pensiero allora questo è un profumo che è stato dedicato o meglio è stato creato pensando ad un'icona internazionale che è Mae West che è questa attrice statunitense se non sbaglio simbolo un po' di femminilità ma anche di ironia una donna molto irriverente, molto sicura di sé e sono famosissime le sue frasi sono celeberrime perché racchiudevano in sé nonché di sex appeal ma anche molta molta ironia per esempio una frase molto famosa che lei diceva era sei felice di vedermi oppure hai una pistola in tasca quindi una frase un po' così un po' a doppio senso che rende perfettamente l'idea proprio della particolarità della persona di quella sua irriverenza di quella sua sicurezza ma anche sicurezza dovuta proprio al suo sex appeal questo è un profumo che mi ha conquistata immediatamente e probabilmente rientra tra i miei profumi preferiti i miei profumi per la vita e ogni tanto ne scopro qualcuno ed è il classico profumo secondo me universale quello proprio che accontenta tutti i gusti perché è un profumo perfetto per qualunque periodo dell'anno nel senso che mi dà quella sensazione che alleggerisce un po' i pensieri dona spensieratezza e quindi durante il periodo estivo, primaverile ma diventa avvolgente diventa caldo, confortevole durante la stagione un po' più fredda è un profumo comunque molto delicato molto fresco i classici profumi che sanno proprio di pulito ha un aspetto anche un po' retro perché è molto muschiato però è un profumo che ha dei piacevolissimi sentori d'erba perché all'interno della piramide olfattiva troviamo proprio i fili d'erba il mughetto, il paciuli e il muschio che rendono il tutto un cocktail molto molto equilibrato molto fresco, molto pulito ed è un profumo secondo me perfetto per tutte le occasioni perché non è mai eccessivo è sempre presente nella sua pulizia nella sua delicatezza è proprio il classico profumo delicato che sa di pulito che rilassa i sensi che trasmette serenità pacatezza è un profumo davvero molto luminoso aperto che allarga i polmoni mi piace molto perché non si altera tantissimo rispetto a quando lo spruzziamo nel senso che non cambia completamente da quando lo andiamo a spruzzare fino a quando insomma si vanno a stabilizzare le note di fondo sulla pelle ciò che emerge poi è quella nota muschiata appunto che gli conferisce questa particolare caratteristica proprio di freschezza e di pulizia è un profumo che mi sento di consigliare il classico profumo secondo me che si può tranquillamente acquistare a scatola chiusa perché accontenta tutti i gusti non è troppo dolce non è troppo speziato troppo legnoso è un profumo equilibratissimo quindi se vi piacciono quei profumi che stanno proprio di fresco e di pulito questo è un profumo secondo me da avere l'unica pecca probabilmente è il prezzo perché insomma non è proprio super super economico e niente insomma mei di estetista cinica straconsigliato il prossimo profumo è una scoperta perché l'ho acquistato anche recentemente ma ve ne voglio parlare perché è stato amore a primo spruzzo e questa marca questo brand io l'ho conosciuto tra l'altro proprio attraverso selvaggia e sto parlando di Fremont questo è un brand italiano che produce prodotti per la cura del corpo per il benessere proprio della persona traendo spunto proprio dagli ingredienti del proprio territorio e utilizza per la creazione dei propri prodotti proprio delle materie prime degli oli essenziali altamente naturali super super naturali questo prodotto di cui vi voglio parlare è uno dei toilette di anice e vaniglia vi faccio vedere la boccettina che è una boccettina proprio basica classica essenziale i prodotti di Fremont si possono trovare nelle bioprofumerie oppure nei negozi tipo io trovo Fremont sia da Tigotà da Altulipano insomma in queste varie catene però è possibile acquistare questi profumi tranquillamente online ovviamente online non si ha la possibilità di annusarli prima quindi insomma se fate un acquisto del genere è proprio sulla fiducia allora questa profumazione mi piace moltissimo perché potrebbe far pensare questo connubio anice e vaniglia ad un profumo molto stucchevole gourmand io non lo categorizzerei tra i profumi gourmand perché è una vaniglia completamente diversa non c'è un vero e proprio equilibrio tra l'anice e la vaniglia perché quello che salta al mio naso fondamentalmente è questa nota aromatica aspra proprio dell'anice che si lega molto bene alla vaniglia ma che la rende sempre così un po' un po' liguorosa mai eccessivamente dolce e stucchevole la cosa che tra l'altro mi sorprende particolarmente è la persistenza di questo profumo perché pur essendo uno de toilette molto probabilmente per il fatto che Fremont utilizza degli oli essenziali naturali quindi molto concentrati questo profumo ha una persistenza pazzesca almeno sulla mia pelle non mi è stato possibile trovare in rete le note olfattive di questo profumo per cui ciò che mi salta al naso che comunque riesco a percepire sono effettivamente le due note che poi sono quelle citate proprio nel nome del profumo che sono l'anice e la vaniglia profumazione davvero molto originale molto particolare che ripeto nulla a che vedere con le profumazioni gourmand che ci ricordano qualcosa di appetibile ma è più una vaniglia all'anice quindi una vaniglia anche un po' liquorosa che perde un po' il suo aspetto della vaniglia gourmand che fa pensare ai biscotti alle torte ma mi fa pensare più a un liquore all'anice con dentro magari una della vaniglia insomma non mi viene adesso il termine una stecca di vaniglia insomma non mi viene il termine scusate ragazze sono un po' rimbambita come il tempo quindi un profumo molto delicato molto piacevole con una buona persistenza anche questo secondo me è un profumo perfetto per tutte le stagioni tutte le occasioni le circostanze i contesti perché non è eccessivo non è un profumo particolarmente fumoso opprimente molto molto delicato quindi veramente una bellissima scoperta se vi capita insomma di trovarlo concedetegli una possibilità insomma andate ad annusarlo perché è una profumazione soprattutto molto molto originale e nuova il prossimo profumo di cui vi parlo è più un profumo legato ai ricordi un profumo che ho acquistato davvero parecchi anni fa adesso non ricordo in che periodo in realtà io lo abbia usato però vivevo ancora in sicilia quindi sono passati davvero almeno 15 no forse di più 10-15 sì 15 anni all'incirca e sto parlando di questo profumo è uno de toilette concentrata di lancaster si chiama perla nera io questo profumo lo acquistai sul suggerimento di una collega di lavoro quando lavoravo giù in sicilia su suggerimento nel senso lo sentivo indosso a lei ed era qualcosa che mi regalava proprio una sensazione di tranquillità finché un giorno appunto mi sono decisa ad acquistarlo e l'ho indossato veramente per tantissimi tantissimi anni probabilmente questo profumo non è indicato per la stagione in corso però visto che la stagione in corso non si capisce bene che cosa sia perché siamo oggi il 21 maggio ma fuori qui da noi piove addirotto e fa freddo direi che è perfetto ancora durante questo periodo perché è un profumo secondo me che dà il meglio di sé durante la stagione invernale perché è proprio il classico profumo che ci riscalda che ci coccola che ci conforta allora questa è la boccetta è una boccetta molto vintage molto semplice in questo vetro satinato un tappo nero proprio semplice e basica ed è una eau de toilette concentrata quindi ha come dire una persistenza una concentrazione che è molto simile agli eau de parfum io vi vorrei un attimo leggere le note olfattive comunque qua mi dice che è un profumo che è stato lanciato nell'87 quindi un classico profumo fine anni 80 a cavallo con gli anni 90 quindi le classiche bombazze i classici profumi inebrianti particolarmente femminili e sensuali super sontuosi con delle piramidi olfattive anche piuttosto complesse allora le note di testa di questo profumo sono i fiori di arancio africano il neroli il bergamotto la lavanda il coriandolo il timo e il basilico quindi è un profumo estremamente aromatico sulle sue note di testa quasi balsamico e ho dimenticato di dirvi che è una fragranza dedicata alla donna ma secondo me è perfetta anche su un uomo perché la sua evoluzione diventa davvero molto molto talcata quindi gradevole secondo me anche su un uomo le note di cuore sono il gelsomino la tuberosa il geranio e la mimosa quindi abbiamo un cuore estremamente fiorito e le note di fondo sono il legno di sandalo il paciuli il muschio di quercia l'ambra l'incenso la vaniglia e lo zibetto per cui abbiamo un fondo molto cremoso molto dolce ma anche molto legnoso quindi secondo me è davvero un profumo che può essere inserito proprio nella categoria degli unisex cos'è che mi piace di questo profumo? allora lì per lì quando lo andiamo a spruzzare è tipo il far away di Avon quindi lo sentiamo un po' soffocante un po' polveroso eccessivo che stordisce un po' in qualche modo ma è una sensazione che si ha veramente per pochi secondi quando lo andiamo a spruzzare è veramente forte presente ma piano piano ma nel giro davvero di pochi minuti questo profumo cambia completamente faccia diventa talmente delicato leggero soave con questa nota proprio di muschio di vaniglia di incenso che rendono il tutto davvero molto molto delicato è un profumo che sta di pulito e ha questa doppia faccia proprio un esordio in cui dice eccomi io ci sono sono presente forte fortissimo che stordisce un po' e poi si come se si addormentasse sulla pelle si adagiasse si rilassasse e diventa qualcosa davvero di portabilissimo di estremamente delicato di estremamente leggero ma che ha questa forte connotazione talcata e che sta di pulito io lo adoro perché mi riporta un po' ai ricordi del passato mi fa ricordare anche delle persone che ho vissuto per un certo periodo della mia vita e mi regala proprio una sensazione di benessere perché appunto mi ricorda un periodo molto sereno e tranquillo della mia esistenza e quindi l'ho voluto riacquistare spinta proprio dal desiderio di riportare indietro alcuni ricordi quindi è un profumo legato proprio alla sfera emotiva affettiva e mi piace davvero tantissimo estremamente sensuale sofisticata come come profumazione so che non è facilissimo da reperire però insomma nelle profumerie molto fornite è un profumo che si trova con estrema facilità ma lo potete trovare anche su Amazon su Notino e comunque non ha assolutamente un prezzo eccessivo il prossimo profumo è un profumo che ho ricevuto in regalo me l'ha regalato mia cognata Giulie che saluto le mando un bacino Giulie ci vediamo prestissimo sto parlando nella versione questa è la versione eau de toilette di Red Door di Elisabeth Arden a parte la boccettina che è qualcosa di meraviglioso con questo colore rosso che poi lo identifica lo definisce il rosso il colore dell'amore della della passione della sensualità ed effettivamente questo profumo è un profumo super seducente super femminile è una fragranza che nasce nella fine degli anni 80 a cavallo con gli anni 90 quindi anche in questo caso si parla di un profumo estremamente sontuoso ed opulento è una fragranza un orientale floreale anche particolarmente legnoso quindi seducente sensuale per certi versi anche un po' eccessivo ma sicuramente portabilissimo sarà per il fatto che io adoro questo genere di profumazioni anche in questo caso parliamo di una profumazione dal carattere un po' vintage un po' retro in cui sentiamo proprio quella rosa bella intensa opulenta quella violetta che non è assolutamente la violetta che sentiamo oggi nei profumi che rende il tutto un po' talcato ma è una violetta più decisa più persistente e vi leggo subito le note olfattive di questo profumo abbiamo in testa mughetto fresia e appunto violetta selvatica quindi un esordio piuttosto intenso di fiori con note di cuore di rosa rossa fiore d'arancio del marocco gel somino e i lang lang le note di fondo sono il muschio di quercia il legno di sandalo è il miele anche in questo caso parliamo di un profumo che esordisce in una maniera importante per certi versi un po' eccessiva però nel suo evolversi tira fuori la sua anima super femminile super sensuale diventa a mano a mano che passano le ore un po' più delicato pur mantenendo comunque il suo concetto di super profumone è un profumo di fine anni 80 inizio anni 90 in cui l'idea è proprio quella del profumone delle piramidi olfattive molto elaborate qualcuno ha attribuito a questo profumo il comporre l'incomponibile cioè il mettere insieme delle note olfattive che alla fine stonano tra di loro quella è una questione di gusti perché secondo me questo profumo è un profumo meraviglioso nel senso che a me piace moltissimo rientra proprio in quella tipologia di profumi che io apprezzo molto ovviamente se siete indirizzate verso profumazioni più delicate che stanno di talco che non sono invadenti che non sono eccessive sicuramente questo è un profumo che non fa per voi perché qui parliamo di qualcosa di molto presente che potrebbe far pensare a qualcosa di soffocante ma che in realtà non lo è perché nella sua evoluzione diventa davvero molto molto delicato però è un profumo estremamente fiorito in cui la rosa e la violetta sono veramente l'essenza principale di questa composizione molto molto persistente io direi una resistenza pazzesca perché lo si sente addosso davvero davvero per giorni sicuramente non è un profumo per le ragazze molto giovani è più un profumo per una donna per una donna più matura ecco una donna adulta non come dire non lo sentirei bene addosso ecco su una diciottenne per la quale insomma io mi sentirei di consigliare qualcosa di più fresco di più giovanile di più grintoso questo è un profumo ecco dalla caratteristica più matura e quindi dedicato proprio ad una donna adulta non lo trovo perfetto per tutte le occasioni è più un profumo da gran serata non so da una serata a teatro un evento importante non è assolutamente un profumo da giorno non è un profumo da indossare in ambienti chiusi lavorativi perché insomma è un profumo eccessivo quindi potrebbe dar fastidio quindi anche nella scelta del profumo soprattutto quando andiamo a lavorare secondo me siamo molto vincolati ed è giusto che sia così bisogna comunque rispettare anche i gusti degli altri nel caso in cui appunto ci troviamo in ambienti piuttosto piccoli come appunto gli uffici insomma i luoghi di lavoro per il resto insomma è un profumo che mi piace moltissimo che indosso volentieri che piace moltissimo a mio marito stranamente perché abbiamo gusti completamente diversi per quanto riguarda i profumi però insomma per le serate importanti per appunto teatro cinema insomma è un profumo che mi sento di consigliarvi che sto adorando veramente tantissimo il prossimo profumo è un grandissimo classico che io ho acquistato di recente ma che ho riacquistato di recente ma credo che sia stato in qualche modo riformulato pur mantenendo un po' quelle che sono le sue caratteristiche principali sto parlando di un profumo di Guerlain ed è il famosissimo L'Istant Magique allora questo è un profumo un floreale legnoso muschiato e guardate com'è carina la confezione la boccettina davvero molto molto carina in questo vetro satinato ma curato davvero nei minimi particolari e questo è un profumo che insomma passiamo veramente in tutt'altra atmosfera perché questo è un profumo di una delicatezza è sofisticatissimo super femminile super sensuale ed è essenzialmente un profumo dedicato alla bella stagione alla primavera all'estate perché è un profumo che dona benessere fa pensare insomma le giornate assolate cielo azzurro il mare i prati in fiore è proprio un profumo che che mette il buon umore fresco leggero muschiato leggermente talcato vi vado a leggere la piramide olfattiva è comunque un profumo del 2007 e le note di testa sono l'anice il bergamotto e il limone e poi abbiamo note di cuore un po' più fiorite dove abbiamo la violetta che è la classica nota olfattiva che un po' caratterizza gran parte dei profumi di Guerlain e quindi ci troviamo il garofano la violetta la fresia e la rosa le note di base che sono quelle note che lo rendono più delicato talcato sono date appunto dall'iris dal sandalo che è la parte legnosa del profumo la mandorla la vaniglia il cedro e il muschio bianco io in realtà in questo profumo non riesco a sentire nient'altro che l'iris e il sandalo sono le due note che più riesco a percepire ma quello credo che sia un discorso del tutto personale tra l'altro avendo io le meteorites sempre di Guerlain trovo una certa similitudine tra i due profumi credo che li indosserò insieme perché secondo me sono dei profumi che si possono tranquillamente combinare questo è un profumo come il il May dell'estetista cinica uno di quei classici profumi da acquistare a scatola chiusa perché è un profumo talmente fresco talmente delicato che non riesco ad inserire in una categoria che secondo me può accontentare qualunque tipo di gusto perché è un profumo delicato un profumo fresco che sa di pulito non è eccessivo può essere indossato in qualunque occasione sia di giorno che di sera nelle occasioni importanti lo trovo perfetto anche su una sposa perché è un profumo pulito che fa pensare proprio alla purezza la dolcezza è un profumo proprio luminoso nitido trasparente mi ricorda proprio l'acqua quindi anch'esso quando lo vado ad indossare mi trasmette serenità pacatezza benessere però se non amate la violetta questo è un profumo che non mi sento di consigliarvi perché comunque quando si va ad assestare sulla nostra pelle quello che rimane è proprio questa violetta leggera talcata che insieme all'iris rendono il tutto veramente molto molto delicato e molto molto coccoloso so che non amate tantissimo questi termini che utilizzo profumoso coccoloso però a me piace utilizzarli perché rendono perfettamente l'idea di quello che voglio insomma trasmettervi e quindi l'instant magic di Guerlain il prossimo profumo è sempre un profumo di Guerlain fa parte della linea acqua allegoria in particolare questo è il ginger piccante vediamo se riesco a farvelo vedere meglio allora questa linea questo è uno dei toilettes questa linea sono diverse profumazioni diverse fragranze e sono tutte accomunate da una caratteristica che è quella di contenere all'interno della piramide olfattiva il bergamotto che conferisce questa acqua allegoria proprio l'aspetto di una acqua di colonia ma in realtà sono dei profumi che comunque hanno un'ottima ottima persistenza e nascono proprio per essere miscelati insieme possono essere utilizzati insieme quindi se acquistiamo più di una profumazione l'idea carina è quella di mescolarli insieme e creare la nostra acqua allegoria personalizzata io ho scelto il ginger piccante perché voi sapete che io amo tantissimo lo zenzero è una nota affattiva che mi piace moltissimo allora questa è la boccetta che è semplicemente meravigliosa secondo me molto molto elegante e questo è un profumo spaziale pazzesco sicuramente nasce per il periodo estivo è un profumo super frizzante che mette allegria mette gioia di vivere che fa pensare magari ad una serata in spiaggia una serata danzante con cocktail e frutta a go go ma non è uno zenzero di quelli un po' più invernali un po' più che sanno proprio di classico biscotto allo zenzero questo è uno zenzero candito è come mangiare una caramella uno zenzero candito quindi super super piccante piccantissime quella piccantezza io la sento quando spruzzo questo profumo che è molto 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 fresco allora vi vado a leggere la sua piramide olfattiva quindi un profumo del gruppo aromatico speziato unisex ovviamente non ve l'avevo detto lanciato sul mercato nel 2019 quindi questa è una profumazione nuova e le note di testa sono come vi dicevo il bergamotto il limone e lo zenzero quindi questo profumo ragazze quando lo spruzzate è proprio se siete giù se siete avete una giornata no siete particolarmente tristi basta spruzzarvi questo profumo veramente vi svolta la giornata perché ha queste note di testa che sono veramente un risveglio assoluto le note di cuore sono il pepe e la rosa quindi abbiamo un cuore speziato ma allo stesso tempo dolce romantico per la presenza della rosa e le note di base sono il cedro e il muschio bianco devo dire che io questa nota di muschio bianco la percepisco poco quello che si sente di questo profumo sono proprio queste note agrumate e speziate in primis il bergamotto e poi questo zenzero che non vi lascia più durante l'arco della giornata ma devo dire che anche il cedro fa la sua parte rendendo il tutto sempre molto molto aspro questo è un profumo decisamente non dolce è un profumo piccante aspro deciso allegro brioso vivace super luminoso mi fa pensare proprio al sole mi fa pensare al sole alle giornate estive all'aperto alla brezza marina è sicuramente uno di quei profumi che funzionano tantissimo proprio come aromaterapia lo trovo perfetto anche da spruzzare nell'ambiente perché è molto fresco e poi comunque apre proprio apre la mente apre i sensi quindi se siamo un po' abbattuti un po' giù un po' assonnati questo è un profumo veramente che ci risveglia ci fa venire voglia di vestirci andare fuori andare a fare una bella passeggiata ottima la persistenza almeno su di me dura tantissimo secondo me ci sono all'interno oli essenziali molto concentrati perché è uno de toilette che nasce come un'acqua di colonia ma ha davvero una buona buona persistenza quindi super super consigliato io in realtà avrei voluto prendere la pera granita se non sbaglio però quello l'ho provato e devo dire che mi ha un po' delusa perché mi aspettavo proprio più un sensore di pera che non ho ritrovato in quel profumo invece in questo che appunto è un profumo allo zenzero questo è proprio zenzero zenzero candito zenzero zuccherato davvero una profumazione davvero ben riuscita ed è perfetta per l'estate dunque questi erano tutti i profumi insomma che ho scoperto in questo periodo e che ho indossato con con estremo piacere ho fatto degli altri acquisti ultimamente quindi sicuramente ve ne parlerò più avanti nel prossimo video io vi ringrazio davvero tanto perché vedo che il video è durato come sempre moltissimo ma il video di profumi è sempre così insomma mi faccio prendere un po' dalla chiacchiera e dalle emozioni e quindi viene sempre un po' più lunghetto io ne approfitto ovviamente per ringraziare Selvaggia e salutarla mandarle un grosso bacio e vi ringrazio per aver seguito il video se avete dei profumi da consigliarvi ovviamente io aspetto i vostri commenti vi mando come sempre tanti baci e se vi va ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao